Capitolo ventiquattresimo della gran serata della signorina Snevellicci e della prima comparsa di Nicola sul palcoscenico. La mattina Nicola si levò per tempo ma ciò nonostante aveva appena cominciato a vestirsi che sentì dei passi su per la scala e fu subito salutato dalle voci del signor Foller, l'attore di Pantomima, e del signor Lenville, il tragico. «Ehi, di casa, di casa, di casa!» esclamò il signor Foller. «Ehi, ehi, di dentro!» disse il signor Lenville con una voce profonda. «Che il diavolo li porti!» pensò Nicola. «Sono venuti a colazione, immagino!» poi disse «Se aspettate un momento, aprirò subito!» I due lo pregarono di far con comodo e per allietare l'attesa fecero sul pianerottolo con i bastoni un po' di scherma, con ineffabile irritazione di tutti gli altri inquilini giù per le scale. «Ecco, entrate!» disse Nicola dopo che ebbe finito di vestirsi. «In nome di Dio, non fate tutto quel baccano di fuori!» «Che graziosa scatoletta che avete!» disse il signor Lenville entrando nella prima cameretta e togliendosi il cappello ancora prima di esservi entrato. «Terribilmente graziosa!» «Per chi fosse un po' formalista in queste faccende potrebbe essere un po' troppo graziosa» disse Nicola «poiché, sebbene indubbiamente sia comoda per raggiungere senza muoversi dalla sedia tutto ciò di cui si ha bisogno dal soffitto o dal pavimento o da qualunque parte della stanza, certo questi vantaggi non si possono avere che in un appartamento molto ristretto». «Ma non è troppo ristretto per uno scapolo» ribatte il signor Lenville. «A proposito, mi viene in mente mia moglie, signor Johnson. Spero che avrà una buona parte in codesto vostro lavoro». «Ho dato un'occhiata all'originale francese ieri sera», disse Nicola. «Sarà ottima, credo». «E per me, caro amico, che intendete di fare?» disse il signor Lenville attizzando il fuoco col bastone che dopo si mise a strofinare sul lembo della giacca. «Nulla nel genere burbero e fiero?» «Voi cacciate di casa vostra moglie e vostra figlia», disse Nicola. «E in un accesso di rabbia e di gelosia pugnalate nella libreria vostro figlio maggiore». «Ah sì!» esclamò il signor Lenville. «Ottimamente». «Quindi», disse Nicola, «siete assalito dai rimorsi fino all'ultimo atto e poi decidete di uccidervi, ma mentre vi puntate la pistola alla tempia un orologio suona le dieci». «Capisco», disse il signor Lenville. «Benissimo». «Vi interrompete», disse Nicola. «Vi ricordate di aver udito nella vostra infanzia un orologio scoccare le dieci. La pistola vi cade di mano. Siete profondamente commosso. Scoppiate a piangere e dopo d'allora diventate una persona di virtù esemplare». «Magnifico», disse il signor Lenville. «È un trionfo sicuro, un trionfo sicuro. Fate cadere il sipario su una scena di tanta naturalezza e sarà uno strepitoso successo». «E per me non v'è nulla di buono», chiese ansiosamente il signor Foller. «Un momento», disse Nicola. «Voi rappresentate il servitore affezionato e fedele. Siete cacciato di casa con la moglie e la figlia». «Sempre insieme con quell'infernale bambina prodigio», sospirò il signor Foller. «E poi si va in un povero tugurio dove non piglio il salario e parlo sentimentalmente, immagino». «Ebbene, sì», rispose Nicola. «È questo lo svolgimento del lavoro». «Io debbo, sapete, in un modo o nell'altro danzare», disse il signor Foller. «Dovete inserire una danza per la bambina. Così sarà meglio, per risparmiare tempo, che vi mettiate un passo a due». «Nulla di più facile», disse il signor Lenville, osservando lo sguardo smarrito del giovane drammaturgo. «Parola che non veggo come si possa fare», soggiunse Nicola. «Ebbene, non è evidente», ragionò il signor Lenville. «Per amor di Dio, come si fa a non vederlo? Mi fate trassecolare. Voi mandate l'infelice donna, la bambina e il servitore, nel povero abituro, è vero? Bene, guardate qui. L'infelice donna si abbatte su una sedia e si nasconde il viso nel fazzoletto. «Che ti fa piangere, mamma?», dice la bambina. «Non piangere, mamma, o farai piangere anche me». «E me», dice il servitore fedele, sfregandosi gli occhi con la manica. «Sì, che possiamo fare?», dice il servitore fedele. «Oh, Pietro», dice quell'infelice, «potessi scacciare questi dolorosi pensieri? Provate, signora, provate», dice il servitore fedele. «Riscuotetevi, signora, divertitevi». «Lo farò», dice la donna, «imparerò a soffrire con coraggio. Ricordi, mio onesto amico, quella danza che eseguivi in giorni più felici con questo dolce angelo. Allora essa non mancava mai di calmarmi lo spirito. Ah, che la vegga ancora una volta prima di morire. Ecco, ci siamo, battuta d'attacco per l'orchestra prima di morire e cominciano a danzare. Non si fa così, Tommaso?» «Precisamente», rispose il signor Foller. «La donna infelice, oppressa dalle antiche rimembranze, alla fine della stanza sviene e voi chiudete con un quadro». Approfittando di queste e altre lezioni, risultato della esperienza personale dei due attori, Nicola imbandì loro la migliore colazione che poté e, quando infine riuscì a mandarli via, si rimise al suo compito, veramente lieto di trovare che era meno difficile che non avesse in principio creduto. Lavorò con accanimento tutta la giornata e non uscì di casa che la sera, ora in cui si recò a teatro dove prima di lui era andato Smike per rappresentare con un'altra comparsa una insurrezione generale. E a teatro trovò tutti quanti così trasformati che li riconobbe appena. Capelli falsi, coloriti falsi, polpacci falsi, muscoli falsi, erano tutti esseri diversi. Il signor Lenville era un prospero guerriero di bellissime proporzioni, il signor Crammels, la sua faccia ampia ombreggiata da una profusione di capelli neri, era un bandito scozzese dal portamento assai maestoso. Uno dei due vecchi attori era vestito da carceriere e l'altro da venerabile patriarca. Il campagnuolo buffo, un combattente di valore, contrassegnato da un tono di giovialità. Ciascuno dei signorini Crammels, un principe nel godimento di tutti i suoi diritti e l'innamorato scoraggiato, un afflitto prigioniero. Verrà pronto per il terzo atto un sontuoso banchetto, consistente in due zuppiere di cartapesta, un piatto di biscotti, una bottiglia nera e un'oliera con l'aceto. E insomma tutto era preparato col massimo splendore e con la più solenne magnificenza. Nicola se ne rimase addossato al sipario, ora contemplando la prima scena, che era un'arcata gotica, circa 30 centimetri più bassa del signor Crammels, attraverso la quale costui doveva fare il suo primo ingresso, e ora ascoltando un paio di persone che schiacciavano delle noci nella galleria, domandandosi se essi formassero tutti gli spettatori, quando il direttore si diresse verso di lui e gli si avvicinò familiarmente. «Siete stato nella platea stasera?» disse il signor Crammels. «No!» rispose Nicola. «Non ancora. Ci andrò per vedere la rappresentazione. Non è andata male la vendita dei posti!» disse il signor Crammels. «Quattro nel centro e tutto un palco di proscenio». «Ah, veramente?» disse Nicola. «Una famiglia, immagino». «Sì!» rispose il signor Crammels. «Sì, è una cosa commovente. Vi sono sei bambini che non vengono se la bambina prodigio non rappresenta». Sarebbe stato difficile per una brigata, famiglia o qualsiasi persona recarsi a teatro una sera che la bambina prodigio non recitasse, perché la sosteneva tutte le sere, una e non di rado due o tre parti. Ma Nicola, con schietta simpatia per i sentimenti d'un padre, si trattenne dall'accennare a questa futile circostanza e il signor Crammels poté continuare a ciarlare senza essere interrotto. «Sei!» riprese il direttore. «Padre e madre otto, la zia nove, la governante dieci, nonno e nonna dodici. Poi c'è il valletto, che sta di fuori con un sacchetto di aranci e una caraffa d'acqua panata e vede la rappresentazione gratis attraverso il finestrino della porta del palco. È un buon mercato per una ghinea. Ci si guadagna a prendere un palco». «Mi meraviglio che permettiate di portare tanta gente», osservò Nicola. «Non se ne può fare a meno», rispose il signor Crammels. «Accade sempre così in provincia. Se vi sono sei bambini, vengono sei persone per tenerli in grembo. Un palco di famiglia ne contiene sempre il doppio. Sonate per l'orchestra a Graden». L'attiva Graden fece ciò che le era domandato e dopo si udirono tre violini che si accordavano. La qualcosa si protrasse finché si suppose che la pazienza del pubblico fosse in grado di sopportarla. E poi terminò con un'altra scossa del campanello, che essendo il segnale di cominciare sul serio, slanciò l'orchestra in una bella varietà di aree popolari, sparse di involontarie variazioni. Se Nicola si era meravigliato delle belle trasformazioni compiute dagli uomini, i mutamenti delle attrici gli parvero molto più straordinari. Quando, da un cantuccio del palco del direttore, poté mirare la signorina Snevellicci in tutta la gloria della mussolina bianca con l'embo d'oro, e la signora Crammels in tutta la dignità della moglie del bandito, e la signorina Bravassa in tutta la dolcezza di amica confidenziale della signorina Snevellicci, e la signorina Belvanni nei calzoncini di seta di un paggio che faceva dappertutto il suo dovere e giurava di vivere e morire servendo tutti, egli poteva stento frenare un impeto d'ammirazione, e lo manifestò con un grande applauso e la più viva attenzione possibile agli eventi della scena. La trama del lavoro era interessantissima, non apparteneva a un secolo, a un popolo o a una nazione particolare, e perciò forse era più deliziosa, perché nessuno con le sue nozioni anteriori avrebbe potuto dare il minimo barlume su ciò che sarebbe accaduto. Un bandito era magnificamente riuscito a fare qualche cosa in quella parte, ed era tornato trionfalmente in patria, fra suoni di violini e di applausi, a salutare la moglie. Una donna di spirito virile, che parlava molto delle ossa del padre insepolte, a quanto sembrava, benché non si sapesse precisamente se è insepolta per capriccio particolare dello stesso vecchio defunto o per deplorevole negligenza dei suoi. figli. Questa moglie del bandito era in qualche maniera congiunta con un patriarca che viveva in un castello molto lontano, e il patriarca era il genitore di parecchi dei personaggi, ma non si sapeva esattamente quali, ed era incerto se nel castello egli avesse i veri figli o no, inclinando piuttosto a credere di no. Essendo così perplesso, volle sciogliere i suoi dubbi con un banchetto, e in quella solennità qualcuno avvolto in un mantello gridò, guardatevi, e quel qualcuno, sconosciuto a tutti tranne che agli spettatori, era lo stesso bandito, che si era presentato per ragioni non sufficientemente chiare, ma forse mirando all'argenteria. V'era una bella sorpresa, in fatto d'amore, in certe scenette fra l'afflitto prigioniero e la signorina Snevellicci, e tra il guerriero comico e la signorina Bravassa, e oltre queste il signor Lenville rappresentava parecchie scene tragiche al buio, delle escursioni notturne fatte per scannar qualcuno, che furono tutte sventate dall'abilità e dalla bravura del guerriero comico, che vigilava tutto ciò che si diceva durante lo svolgimento del lavoro, e dalla intrepidezza della signorina Snevellicci, la quale, vestita di calzoni bene aderenti, penetrava nella prigione dell'innamorato e incarcerato, con un panierino di rinfreschi e una lanterna cieca. Finalmente risultò che era stato il patriarca a trattare le ossa del suocero del bandito in maniera così poco rispettosa, e perciò la moglie del bandito correva fino al castello per ucciderlo, ma entrava in una camera buia, dove, dopo molto brancolare in giro, ciascuno del seguito metteva le mani su qualcuno scambiandolo con un altro, e cagionando un'enorme confusione con colpi di pistola, morti e chiarore di torce accese. E allora si presentava il patriarca, che, dichiarando con un'occhiata soddisfatta di sapere ormai tutto intorno ai figli e di riservarsi una privata comunicazione con essi, disse che non ci poteva essere occasione più adatta di quella per celebrare il matrimonio dei giovani. Il che faceva, congiungendo loro le mani col pieno consenso del paggio infaticabile, il quale, essendo la sola altra persona superstite, levava il berretto verso le nuvole e con la destra indicava il suolo, invocando così una benedizione e dando al sipario il segnale di abbassarsi, come infatti avvenne fra gli applausi generali. «Che ne pensate?» chiese il signor Crammels quando Nicola ritornò sul palcoscenico. Il signor Crammels era tutto rosso e accaldato perché i banditi sono soliti di gridare disperatamente. «Veramente bellissimo!» rispose Nicola e la signorina Snevellicci specialmente recita che è una meraviglia. «Quella ragazza è un genio!» disse il signor Crammels. «Veramente un genio! A proposito, ho pensato di dare quel vostro lavoro per la sua serata.» «Quando?» chiese Nicola. «La sera della rappresentazione a suo beneficio, a cui intervengono i suoi amici e protettori.» «Ah, comprendo!» rispose Nicola. «Vedete!» disse il signor Crammels. «Il successo della rappresentazione in simile occasione è sicuro e anche se il lavoro non dovesse aver l'esito che speriamo sarà a rischio della signorina Snevellicci e non nostro.» «Vostro!» intendete dire? disse Nicola. «Come? Non ho detto mio?» rispose il signor Crammels. «Lunedì prossimo, che ne dite? Voi avrete finito e avrete potuto molto prima d'allora studiare la parte dell'amoroso.» «Non credo molto prima», rispose Nicola. «Ma per quel giorno credo di poter promettere di essere pronto.» «Benissimo!» continuò il signor Crammels. «Allora possiamo dire che siamo d'accordo. Ora voglio domandarvi qualche altra cosa. Si ha bisogno d'un po', direi, d'un po' di propaganda in queste occasioni.» «Fra i protettori, forse?» disse Nicola. «Fra i protettori. E il fatto sta che la Snevellicci ha avuto tante serate qui che le occorre un'attrazione. Diede una serata in occasione della morte della madrigna e una serata per la morte dello zio. E mia moglie e io abbiamo dato delle serate nel genetliaco della bambina prodigio e nell'anniversario del nostro matrimonio. Di modo che c'è qualche difficoltà nell'organizzarne un'altra fruttuosa. Non vorresti aiutare quella povera ragazza, signor Johnson?» disse al signor Crammels sedendosi su un tamburo e, mentre lo fissava in viso, annusando una gran impresa di tabacco. «Che intendete?» soggiunse Nicola. «Non credete di poterle consacrare una mezz'oretta domani mattina per visitare le case d'un paio di notabili?» mormorò il direttore in tono persuasivo. «Oh, povero me!» disse Nicola con aria di viva contrarietà. «Non lo farei volentieri.» «L'accompagnerà il prodigio?» disse il signor Crammels. «Nel momento che mi fu richiesto diede il permesso alla bambina di andare. Non vi sarà la minima sconvenienza.» «La signorina Snevellicci, signore, è la stessa anima dell'onore. Sarebbe di molto giovamento. Un signore di Londra, l'autore del nuovo lavoro, attore nel nuovo lavoro, la prima volta che si presenta su un palcoscenico. Si comprende che questo ci farebbe fare una magnifica serata, signor Johnson.» «Sono dolentissimo di smorzare le speranze di qualcuno, e specialmente di una donna», rispose Nicola. «Ma in verità debbo decisamente rifiutare di andare in giro sollecitando l'intervento alla serata.» «Che dice il signor Johnson, Vincenzo?» chiese una voce che sfiorò l'orecchio di Nicola, il quale, guardandosi intorno, trovò la signora Crammels e la signora Snevellicci dietro di lui. «Fa qualche obiezione, cara», rispose il signor Crammels guardando Nicola. «Obiezione!» esclamò la signora Crammels. «Possibile?» «Ah, spero di no», esclamò la signorina Snevellicci. «Certo non sarete così crudele! Ah, poveretta me! Bene, no, non mi sembra vero dopo averci tanto pensato.» «Il signor Johnson non insisterà, caro», disse la signora Crammels. «Egli è migliore che non crediate. Galanteria, umanità, tutti i suoi migliori sentimenti saranno chiamati in sostegno di questa interessante causa.» «Che commuove anche il direttore», disse il signor Crammels nel suo solito tono tragico. «Su, su, vintenerirete! So che vintenerirete!» «Non è nella mia natura», disse Nicola commosso da questi appelli, «di resistere a nessuna preghiera, salvo che non mi si chieda qualcosa di male, e oltre un sentimento di orgoglio non c'è nulla in me che mi impedisca di fare ciò che mi domandate. Qui io non conosco nessuno, e nessuno conosce me. Sia così dunque, cedo.» La signorina Snevellicci si confuse subito in un velo di rossore e in molte espressioni di gratitudine. Mercanzia questa della quale neppure il signor Crammels e la moglie fecero economia. Fu stabilito che Nicola dovesse andare dalla signorina Snevellicci alle undici della mattina presso, e subito dopo si separarono. Lui per tornare a casa a scrivere, lei a vestirsi per la rappresentazione che seguiva, e il disinteressato direttore e la moglie a discutere sui probabili incassi della imminente serata, dai quali dovevano trattenersi i due terzi, secondo i patti solenni della scrittura. La mattina presso, allora fissata, Nicola si presentò in casa della signorina Snevellicci, che dimorava in Lombard Street, nell'abitazione di un sarto. Un forte odore di stiratura e riempiva il corridoietto, e la figliuola del sarto, che aveva aperto, apparve in quell'agitazione di spirito che accompagna così spesso la preparazione periodica della biancheria di famiglia. «Credo che la signorina Snevellicci abiti qui», disse Nicola sulla soglia. La figliuola del sarto rispose affermativamente. «Volete aver la bontà di dirle che c'è il signor Johnson?», disse Nicola. «Ah, se non vi dispiace dovete salir di sopra», rispose la figliuola del sarto, con un sorriso. Nicola seguì la signorina e fu condotto in una stanzetta del primo piano in comunicazione con una camera posteriore, nella quale, a quanto poté giudicare da un lieve tintinio di tazze e di piattini, la signorina Snevellicci, ancora a letto, stava in quel momento facendo colazione. «Dovete attendere per piacere», disse la figliuola del sarto dopo un breve periodo di assenza, durante il quale, nella camera posteriore, era cessato il lieve tintinio, per esser seguito da un bisbiglio. «Verrà subito». Così dicendo sollevò la persiana e avendo con questo mezzo, e la pensò così, attratta l'attenzione del signor Johnson dalla stanza alla strada, tolse alcuni oggetti che potevano essere delle calze sciorinate sull'alare e se ne andò. Siccome fuori dalla finestra non c'era nulla di bello da guardare, Nicola volse l'occhio per la stanza, con maggiore curiosità che non le avrebbe altrimenti consacrata. Sul canapè giaceva una vecchia chitarra, parecchie carte di musica gualcite e un largo strato di cartuccette da capelli, insieme con un mucchio confuso di manifestini teatrali e un paio di scarpette di raso con grosse nocche azzurre. Sospeso alla spalliera di una sedia c'era un grembiule non ancora finito, con delle piccole tasche ornate di nastri rossi, della specie che le cameriere portano sul palcoscenico e che non si incontra quindi in nessun'altra parte. In un angolo c'era il minuscolo paio di scarpine a punta col quale la signorina Snevellicci era solita rappresentare il piccolo fantino e, piegato su una sedia accanto, un involtino che dava un gran sospetto della presenza dei relativi calzoncini. Ma forse l'oggetto più interessante era l'album aperto dei ritagli di giornale spiegato sul tavolino in mezzo a degli opuscoli teatrali e sul quale erano incollati vari articoletti critici sulle recite della signorina Snevellicci, tratti da diversi fogli di provincia, insieme con un omaggio poetico in onor suo che cominciava. Cantami, o Dio d'amore, e dimmi da quale serra la grande Snevellicci venuta è sulla terra, ad incantarci l'anima con l'occhio e col sorriso e a darci l'illusione d'essere in paradiso. Oltre questa effusione verano innumerevoli allusioni, laudative anch'esse, estratte dai giornali, quali le seguenti. Apprendiamo da un annuncio in altra parte del giornale che la incantevole e valentissima signorina Snevellicci darà la sua serata mercoledì sera. Per questa occasione ella ha preparato un programma che potrebbe accendere di gioia il petto d'un misantropo. Nella fiducia che i nostri concittadini non abbiano perduto quell'alta stima dell'abilità pubblica e della dignità privata che questa incantevole attrice sarà salutata da un pienone. Ai corrispondenti, J.S. è male informato quando crede che la valolosa e bella signorina Snevellicci, che la sera inebri a tutti i cuori nel nostro grazioso e comodo teatrino, non sia la stessa donna alla quale il giovane signore straricco, abitante in un raggio di un centinaio di miglia dalla buona città di York, ultimamente fece delle onorevoli proposte. Abbiamo ragione di sapere che la signorina Snevellicci è appunto la donna implicata in questa misteriosa e romanzesca faccenda. La sua condotta in quell'occasione fece non solo onore al suo spirito e al suo cuore, ma anche ai trionfi teatrali del suo splendido genio. Un copioso assortimento di simili paragrafi, con lunghi prospetti teatrali di serate a proprio beneficio, che finivano tutti «Venite presto» in enormi maiuscole, formavano il principale contenuto dell'album di ritagli della signorina Snevellicci. Nicola aveva già letto molti di quei ritagli ed era assorto in un minuto e melanconico racconto del seguito di eventi che aveva condotto la signorina Snevellicci a slogarsi la caviglia, scivolando su una buccia d'arancio, gettata da un mostro in forma umana, come diceva il giornale, sul palcoscenico di Winchester, quando la stessa signorina, vestita del cappello a secchio di carbone e in abito da passeggio completo, entrò salterellando nella stanza con mille scuse per aver trattenuto il visitatore così a lungo dopo l'ora fissata. «Ma in realtà», disse la signorina Snevellicci, «la mia cara Ledruc, che abita qui con me, si è sentita così male stanotte che ho avuto paura mi morisse in braccio». «Un destino simile è quasi da invidiare», rispose Nicola, «ma tuttavia mi dispiace di apprenderlo». «Che adulatore che siete», disse la signorina Snevellicci, abbottonandosi in gran confusione il guanto. «Se è un'adulazione ammirare i vostri incanti e le vostre virtù», soggiunse Nicola mettendo la mano sull'album dei ritagli, «ne avete qui degli esempi migliori». «Ah, che crudeltà leggere queste cose, ora quasi mi vergogno di guardarvi in faccia, mi vergogno davvero», disse la signorina Snevellicci, impadronendosi del volume e mettendolo via in un armadio. «Quella Ledruc dove ha la testa? Come ha potuto essere così cattiva?» «Credevo che l'aveste lasciato voi qui, appunto per farmelo leggere», disse Nicola, e realmente sembrava probabile. «Non ve lo avrei fatto vedere per tutto l'oro del mondo», soggiunse la signorina Snevellicci. «Sono proprio spiacente, proprio, ma la Ledruc è così sventata che di lei non c'è da affidarsi». La conversazione a questo punto fu interrotta dall'ingresso della bambina prodigio, che se n'era rimasta discretamente fino allora nella camera dal letto, e che si presentava infine con molta grazia e leggerezza, portando in mano un piccolissimo parasole verde con una larghissima frangia e senza manico. Dopo un po' di parole senza importanza se ne uscirono tutti e tre. La bambina prodigio riuscì una compagna piuttosto molesta, perché prima le scappò il sandalo sinistro e poi il destro, e dopo che furono riparati questi guai si scoprì che una gamba dei calzoncini bianchi era più lunga dell'altra. E quindi il parasole verde andò a cadere in un'ingraticciata di ferro, per esserne ripescato con gran difficoltà e con molti sforzi. Pur era impossibile sgridarla, perché era figlia del direttore. Nicola sopportò tutto con perfetto buon umore, e procedette a braccetto della signora Snevellicci da un lato e la noiosa bambina dall'altro. La prima casa alla quale volsero i passi sorgeva in una bella piazzetta. Al modesto, duplice colpo di martello picchiato dalla signorina Snevellicci, rispose a un servitorello che alla domanda se fosse in casa la signora Cardol spalancò un gran paio d'occhi, si mise a ridere e disse che non sapeva ma che si sarebbe informato. Con questa promessa li fece entrare in un salotto dove li lasciò ad attendere, sinché non furono accorse con qualche scusa due domestiche per vedere gli attori e far commenti nel corridoio, e dopo una gran quantità di bisbigli in comune e di risatine represse, finalmente li condusse di sopra, annunziando la signorina Snevellicci. Ora si credeva, dai bene informati in simili argomenti, che la signora Cardol avesse una finezza addirittura londinese in fatto di letteratura e di teatro, mentre il signor Cardol aveva scritto un opuscolo di 64 pagine, in ottavo grande, sul carattere del marito defunto della nutrice nel Romeo e Giulietta, per discutere la questione se in vita egli fosse stato veramente un giovialone o se non fosse stata la semplice affettuosa simpatia della moglie che l'aveva indotta a definirlo in quel modo. Egli aveva parimenti provato che con l'alterare la maniera corrente di punteggiatura qualunque dei drammi di Shakespeare poteva risultare diverso, col senso addirittura mutato. Inutile aggiungere perciò che egli era un gran critico e un profondissimo e originalissimo pensatore. «Bene, signorina Snevellicci», disse la signora Cardol entrando nel salotto, «come state dunque?». La signorina Snevellicci fece un grazioso inchino e si augurò che la signora Cardol stesse bene, come pure il signor Cardol, apparso contemporaneamente. La signora Cardol indossava una vestaglia da mattina con un piccolo tocco sui capelli. Il signor Cardol portava una palandrana sciolta sul dorso e aveva l'indice destro puntato sulla fronte, secondo i ritratti di Stern, al quale qualcuno aveva detto egli era rassomigliantissimo. «Mi sono arrischiata a venire, signora, per domandarvi se interverrete alla mia serata», disse la signorina Snevellicci presentando dei documenti. «Ah, in verità non so che rispondere», rispose la signora Cardol. «Non si può dire che il teatro sia ancora nel fulgore della sua gloria. Non state in piedi, signorina Snevellicci. Il dramma è finito, assolutamente finito». «Come squisita incarnazione delle visioni del poeta e realizzazione dell'intellettualità umana, che indora con fulgida luce i nostri istanti di sogno, aprendo un nuovo magico mondo innanzi all'occhio della nostra mente, il dramma è finito, assolutamente finito», disse il signor Cardol. «Qual'uomo vivente può presentarci più tutti quegli ondeggianti e prismatici colori di cui è dotato il personaggio di Amleto», esclamò la signora Cardol. «Veramente, qual'uomo mai sul palcoscenico», disse il signor Cardol con una piccola riserva per lui. «Amleto! Oibo! Ridicolo! Amleto è finito! Assolutamente finito!». Addirittura oppressi da queste lugubri riflessioni, il signore e la signora Cardol sospirarono e se ne stettero un po' senza parlare. Finalmente la donna, volgendosi alla signora Snevellicci, le chiese che lavoro si proponeva di rappresentare. «Uno assolutamente nuovo», disse la signorina Snevellicci. «E questo signore ne è l'autore e vi prende parte anche lui. È la prima volta che egli si presenta su un palcoscenico. Questo signore si chiama Johnson. Ma auguro che abbiate rispettato le unità, signore», disse il signor Cardol. «Il lavoro originale è francese», disse Nicola. «Ve abbondanza di incidenti, un dialogo pieno di spirito, caratteri fortemente disegnati. Tutto inutile, signore, se non v'è un rigoroso rispetto delle unità», ribatte il signor Cardol. «Le unità del dramma, prima di tutto». «Potrei chiedervi», disse Nicola esitando fra il rispetto che doveva fingere e il suo amor del capriccioso, «potrei chiedervi che cosa sono le unità?». Il signor Cardol tossì e ponderò. «Le unità, signore», disse, «sono la compiutezza, una specie di addentellamento universale riguardo al luogo e al tempo, una sorte di generale unicità. Se mi è concesso di ricorrere a un'espressione così arrischiata, ritengo che queste siano le unità drammatiche fin dove mi è stato dato di approfondirle e notate che ho letto molto sull'argomento e meditato molto. Io trovo, percorrendo le rappresentazioni di questa bambina», disse il signor Cardol volgendosi al prodigio, «un'unità di sentimenti, una ampiezza, una luce e un'ombra, un calore di colorito, un tono, un'armonia, un'irradiazione, uno sviluppo artistico di originale concezione che ricerco in vano negli altri attori. Non so se mi spiego». «Perfettamente», rispose Nicola. «Appunto», disse il signor Cardol tirandosi la cravatta, «questa è la mia definizione delle unità del dramma». La signora Cardol era rimasta piena di compiacenza ad ascoltare quella lucida spiegazione e, dopo che fu finita, chiese al marito che pensasse sulla concessione dei loro nomi. «Non so, cara, parola che non lo so», disse il signor Cardol. «Se diamo i nostri nomi, si deve distintamente intendere che noi non ci rendiamo malevadori della qualità della rappresentazione. Che il mondo sappia che noi non le diamo alla sanzione del nostro nome, ma che accordiamo il nostro favore puramente e semplicemente alla signorina Snevellicci. Stabilito chiaramente questo, ritengo che sia, per dir così, un dovere estendere il nostro patrocinio a un teatro degenerato, anche in ragione dei ricordi ai quali è associato. «Avete, signorina Snevellicci, due scellini di resto?», disse il signor Cardol facendo girare fra le dita un po' di denaro. La signorina Snevellicci palpò in tutti gli angoli della borsetta rosa, ma non vi trovò nulla. Nicola mormorò una facezia intorno alla sua condizione d'autore e credette persino inutile mostrare di frugarsi in tasca. «Un momento», disse il signor Cardol. «Due, quattro, otto». «Quattro scellini il palco, signorina Snevellicci, è troppo caro, date le condizioni odierne del teatro. Tre mezze corone sono sette scellini e un quarto. Non staremo qui a litigare per una così piccola differenza. Pochi quattrini non ci divideranno, signorina Snevellicci. La povera signorina Snevellicci prese tre mezze corone con molti sorrisi e inchini e la signora Cardol, aggiungendo parecchie raccomandazioni suppletive riguardo ai loro posti, alla nettezza dei sedili e all'invio di due programmi puliti appena pubblicati, suonò il campanello per dare il segnale della fine della conferenza. «Stranagente», disse Nicola quando si fu allontanato da quella casa. «Vi assicuro», disse la signorina Snevellicci prendendogli il braccio, «che io credo sia già un caso fortunato che essi non siano in debito di tutto il prezzo del palco, invece di aver pagato qualche soldo in meno. Ora, se voi riusciste, quelli darebbero a intendere agli altri che vi hanno sempre protetto, ma se faceste fiasco, direbbero che fin dal principio l'avevano sicuramente preveduto». Nella casa che visitarono poi essi ebbero un'accoglienza gloriosa, perché vi abitavano sei fanciulli così estasiati dalle gesta pubbliche della bambina prodigio che, chiamati dalla loro camera a godere di una visione privata della bambina, cominciarono col ficcarle le dita negli occhi, a camminarle sui piedi e a dimostrarle molte altre piccole attenzioni particolari alla loro età. «Certo, persuaderò il signor Borum a prendere un palco per noi», disse la padrona di casa dopo una gentilissima accoglienza. «Condurò con me solo due dei bambini e comporrò il resto della brigata di signori, di vostri ammiratori, signorina Snevellicci. Augusto, cattivo che sei, lascia stare la bambina». Queste parole erano rivolte a un ragazzino che pizzicava di dietro il prodigio, forse con lo scopo di accertarsi se fosse reale. «Sono sicura che vi dovete sentire stanca», disse la mamma volgendosi alla signorina Snevellicci. «Non posso permettervi di andarvene senza assaggiare un bicchiere di vino». «Oi boh, Carlotta, mi fai vergognare! Signorina Lane, vi prego, cara, di badare ai bambini». La signorina Lane era la governante e questo monito era reso necessario da un rude atto della più piccola delle signorine Borum, la quale, dopo aver derubato il prodigio del piccolo parasole, lo stava trafugando lontano con ineffabile smarrimento della proprietaria. «Quanto vorrei sapere come avete fatto a imparare a recitare così bene», disse l'eccellente signora Borum volgendosi alla signorina Snevellicci. «Non lo posso proprio capire. Eh, ma non guardare così. Saper ridere in un lavoro, piangere in un altro è sempre con tanta naturalezza. Che bellezza!» «Sono felicissima di sentirvi parlare così», disse la signorina Snevellicci. «È proprio delizioso pensare che vi piace la mia maniera di recitare». «Piacermi», esclamò la signora Borum. «A chi non piacerebbe? Verrei a teatro due volte la settimana, se potessi. Ne vado matta. Solo qualche volta siete troppo commovente e mi mettete in una condizione tale da farmi versare un fiume di lacrime. Santo Dio del cielo, signorina Lane, come potete far tormentare così quella bambina!» Il prodigio era in realtà come sul punto di essere sbranata da due robusti ragazzi che l'avevano afferrata l'uno da una mano, l'altro dall'altra, e la trascinavano in direzione opposta per fare una prova di forza. Però la signorina Lane, che era troppo assorta nella contemplazione degli attori adulti per poter dare la necessaria attenzione a quei maneggi, salvò in quel tratto l'infelice bambina, la quale, confortata da un bicchiere di vino, fu poco dopo condotta via dai suoi compagni, senz'altro danno che lo schiacciamento del cappellino di velo rosa e una macchia di grasso piuttosto estesa sulla gonna bianca e le mutandine. Fu una dura mattinata perché vi furono molte altre visite e tutti volevano una cosa diversa, chi la tragedia e chi la commedia, alcuni arricciavano il naso al ballo, altri non si sapeva veramente che volessero. Alcuni giudicavano che il cantante buffo non fosse all'altezza necessaria e altri desideravano che la sua parte nella rappresentazione fosse maggiore. Alcuni non promettevano di andare perché altri non ci andavano e altri non ci andavano addirittura perché ci andavano certi altri. Infine e a poco a poco, omettendo qualche cosa qui e aggiungendo qualche cosa lì, la signorina Sdevellicci si obbligò a dare un programma abbastanza esteso, se non aveva altro merito. Includeva fra le altre inezie quattro drammi, diverse canzoni, un po' di combattimenti e parecchie danze e i tre attori se ne ritornarono a casa piuttosto esausti dalle faccende della giornata. Nicola finì di lavorare al dramma che fu messo subito alle prove e poi si applicò alla propria parte che studiò con gran perseveranza e rappresentò, come disse tutta la compagnia, a perfezione. E infine arrivò il gran giorno. La mattina per tutte le contrade fu mandato in giro un banditore a proclamare il trattenimento con squilli di campanello e dei manifesti straordinari, alti 30 e larghi 20 centimetri, furono dispersi in tutte le direzioni, lanciati su tutti gli steccati, appesi a tutti i battenti e su tutti i muri, sebbene non sempre felicemente, giacché essendosene assunto l'ufficio, durante l'indisposizione dell'attacchino regolare un'analfabeta, una parte furono incollati di lato e gli altri sotto sopra. Alle cinque e mezzo vi fu una calca di quattro persone alla porta della galleria. Alle sei meno un quarto ve n'erano almeno una dozzina. Alle sei i calci erano tremendi e il maggiore dei ragazzi Crammels, aprendo la porta, fu costretto a nascondervisi dietro per aver salva la vita. Quindici scellini furono riscossi dalla signora Grandan nei primi dieci minuti. Dietro le quinte regnava la stessa insolita eccitazione. La signorina Snevellicci sudava tanto che il belletto astento le si manteneva sul viso. La signora Crammels era così nervosa che ricordava appena la parte. Per il caldo e l'ansia le anella della signorina Bravassa perdevano l'arricciatura. Lo stesso signor Crammels spiava per il buco del sipario e se ne ritraeva di tanto in tanto per annunziare che un altro spettatore era entrato nella platea. Infine l'orchestra cessò di suonare e si il sipario sul nuovo lavoro. La prima scena nella quale non vera nulla di speciale passò abbastanza calma ma dopo che nella seconda si vide apparire la signorina Snevellicci accompagnata dal prodigio in qualità di figliuola esplose una tempesta di applausi. Gli spettatori nel palco dei Borum si levarono come un solo uomo agitando cappelli e fazzoletti e gridando bravo. La signora Borum e la governante gettarono ghirlande sul palcoscenico ma alcune andarono a posarsi sui lumi e una andò a posarsi nella platea sulle tempie di un signore grasso che fissando ansioso la scena rimase inconsapevole di quell'onore. Il sarto e la famiglia batterono rumorosamente i piedi sulle assi superiori dei palchi fino a metterne in pericolo la solidità. Lo stesso ragazzo venditore di birra rimase inchiodato nel centro del teatro. Un giovane ufficiale che si credeva fosse innamorato della signorina Snevellicci si fissò il monocolo nell'orbita come per nascondere una lacrima. Ripetutamente la signorina Snevellicci fece degli inchini sempre più profondi. Ripetutamente gli applausi diventarono sempre più strepitosi. Infine quando il prodigio raccolse una delle ghirlande fumanti e la mise lateralmente su un occhio della signorina Snevellicci gli applausi salirono al cielo e la rappresentazione continuò. Ma quando apparve Nicola per la scena di rottura con la signora Crammels qual non fu il delirio dei battimani? Quando la signora Crammels che era la sua indegna madre lo chiamò sogghignando ragazzo presuntuoso e lui le tenne testa che subisso di applausi vi fu. Quando egli attaccò lite con un altro giovane per la signorina e presentando la cassetta con le pistole gli disse che se era un gentiluomo si sarebbe battuto in quella stessa stanza finché i mobili non fossero spruzzati del sangue di uno dei duellanti se non di tutti e due come i palchi la platea e la galleria si congiunsero nelle più irresistibili acclamazioni. Quando egli rivolse dei calorosi appelli alla madre perché non voleva rinunziare alla roba della signorina e la madre intenerendosi fece intenerire anche lui come tutte le spettatrici si misero a singhiozzare. Quando lui si tenne nascosto dietro una cortina al buio e il malvagio parente vibrò la guzza spada in ogni direzione tranne dove le gambe di Nicola rimanevano scoperte che brivido di paura angosciosa corse per il teatro. La sua aria, il suo aspetto, la sua andatura, il suo sguardo, tutto ciò che egli faceva e diceva era soggetto di commenti. Scoppiava una triplice salva d'applausi ogni volta che parlava. E quando finalmente nella scena della pompa e delle tine la signora Gradden accese la luce azzurra ed entrarono tutti i membri disoccupati della compagnia precipitandosi in varie direzioni, non perché avessero qualcosa da fare nel dramma ma per finire con un quadro, gli spettatori, che erano a quell'ora notevolmente aumentati, diedero sfogo a un tale accesso di entusiasmo quale da molti e molti giorni non si era più visto e udito fra quelle mura. In breve il successo tanto del nuovo lavoro quanto del nuovo attore fu completo e appena il dramma finì e fu chiamata la signorina Snevellicci, Nicola la prese per mano e divise con lei l'onore degli applausi. Nicola la prese per mano e divise con lei. Nicola la prese per mano e divise con lei.